La rivista Global Change Biology ha pubblicato lo studio di due università, una del Queensland e una di Canterbury, in base al quale i cinghiali possono rilasciare circa 4,9 milioni di tonnellate di anidride carbonica ogni anno a livello globale, l'equivalente di inquinante prodotto da 1,1 milioni di automobili. Dunque il loro impatto sul clima peserebbe più di quello delle automobili. Quello che è problematico e che dobbiamo sicuramente discutere è il fatto che si vada a comparare un'attività umana inquinante, quindi le automobili, ma possono essere anche altre attività umane, con l'esistenza di esseri viventi, quindi esseri viventi selvatici che popolano la Terra. È ovvio che qualunque specie ha un impatto come emissione di CO2, perché comunque dal punto di vista sia il fatto che respirano emettono delle azioni che comunque vanno ad alterare in qualche modo, specie più, alcune meno, il loro territorio. Sicuramente i cinghiali sarà vero che andando a modificare il terreno fanno uscire quelle riserve dal terreno, però è preoccupante mettere veramente a paragone la vita di esseri viventi, animali selvatici con attività umane come le automobili. Quello che dobbiamo fare è andare a puntare il dito verso le nostre attività inquinanti e non verso degli altri esseri viventi che fanno la loro vita. Sì, magari in alcuni casi può andare in conflitto con la nostra società, ma soprattutto perché noi stiamo erodendo i loro spazi e quindi loro hanno sempre meno spazio nei boschi, nelle foreste, per stare per conto loro e finiscono nelle nostre città. E quindi insomma quello che dobbiamo fare, gli scienziati dovrebbero ricercare, sono gli impatti della nostra attività alimentare, di spostamento, di viaggio e di produzione di energia per esempio. Ma il livello di CO2 nell'atmosfera ha raggiunto in giugno i valori più alti della storia dell'umanità. L'anidride carbonica, che rappresenta oltre il 75% delle emissioni causate dall'uomo, è il principale responsabile dell'aumento della temperatura sul pianeta, un fenomeno ormai provato scientificamente e la sua emissione deriva principalmente dalle attività antropiche che comportano la combustione di combustibili fossili.